Nawa è la nuova collezione di sanitari che abbiamo progettato per Teuco. Nasce con la volontà di disegnare, anzi di riportare su una forma ceramica l'idea di un nastro. Nawa infatti in finlandese significa appunto nastro. La collezione Nawa nasce con la volontà di esaltare le capacità espressive del materiale ceramico. Quindi da una parte la carnalità, le forme morbide e dense e dall'altra la ricerca di un equilibrio, di una purezza, di una forma che sia capace di esistere nel tempo. Pensando poi che nel bagno si sta nudi a contatto con questo materiale abbiamo immaginato una forma che in qualche modo accompagnasse il corpo umano, fosse piacevole al contatto. E quindi abbiamo proprio immaginato un nastro che si muove nello spazio, che crea una forma molto morbida, molto dolce. Oppure, non so, pensare al letto di un fiume, che comunque è caratterizzato da queste morbidezze che però non sono mai eccessive. Chapeau supera il concetto tradizionale di box doccia e regala tantissime funzionalità, non solo le trasparenze, la leggerezza del cristallo che sono sicuramente ben accette nei bagni di oggi, che sono molto piccoli e quindi in qualche modo ampliano gli spazi, questi cristalli e queste trasparenze. Ma regala e recupera tutte quelle funzionalità, quelle comodità che si avevano con i box di concezione tradizionale. Per cui questo cappello che viene posizionato all'interno dei cristalli e sembra volare, è sospeso, in realtà ha una grandissima funzionalità di portare calore. Quando sto facendo la doccia io non sento più freddo e posso avere anche il beneficiare dell'idromassaggio, così come del bagno turco. Uno spazio di benessere dove la tecnologia ci deve essere, ma non deve essere dominante, non deve… Deve essere al servizio della persona che nel momento in cui si trova in bagno oggi più che mai ricerca veramente quell'equilibrio delicatissimo tra benessere di corpo, mente e anima. E quindi l'interazione con l'oggetto deve essere semplice, deve essere facile, bisogna ricreare atmosfere rituali. Abbiamo immaginato di dare nelle mani di un progettista, di un architetto, tutti gli strumenti per progettare il suo bagno, perché l'architetto deve esprimere il suo punto di vista quando disegna uno spazio. Quindi è una gamma molto estesa, tantissima flessibilità al servizio dell'architetto. Grazie. Grazie.